I dati economici calabresi non lasciano margine di dubbio. Il tasso di disoccupazione in Calabria è ancora molto elevato e colpisce soprattutto i più giovani. Questo è emerso da un incontro sul binomio economia e solidarietà organizzato da Confindustria di Catanzaro. Il volontariato rappresenta il grande capitale sociale di questo paese e uno strumento importante sul quale investire. Lo ha sottolineato il giornalista Ferruccio De Bortoli, intervenuto all'incontro L'Ideale del Servile, filo conduttore tra economia e solidarietà organizzato da Confindustria Catanzaro. De Bortoli, già direttore del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera, è presidente dell'associazione Vidas, che opera principalmente nella zona del Milanese e si occupa di assistenza sociosanitaria gratuita per i malati terminali. In Italia ci sono 300.000 organizzazioni di volontariato, aggiunto, che danno lavoro a 680.000 persone. Quest'occupazione è cresciuta negli ultimi dieci anni. Il terzo settore copre oggi circa il 5% del PIL. Ci sono circa 5 milioni di volontari, un esercito di persone, che operano senza ostentare il proprio senso di carità. Anche il mondo del volontariato, però, deve essere gestito come un'impresa in modo efficiente e senza dispersione di risorse umane ed economiche. Il direttore della filiale calabrese della Banca d'Italia, Sergio Magarelli, ha illustrato un aggiornamento della situazione calabrese, dal quale è risultato un andamento leggermente positivo. Il settore caratterizzato dai giudizi più favorevoli risulta quello dell'industria, mentre quello dei servizi rimane caratterizzato da una sostanziale debolezza. Per il mercato del lavoro, nel primo semestre, il numero degli occupati è in aumento del 3,7% rispetto al 2015. Continua la lotta del garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in merito alla suppressione dei tribunali dei minori. Egli stesso afferma che il metodo di Bella, dal nome del Tribunale Regino, rappresenta la primavera della Calabria. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, illustra le criticità del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che impediscono il lavoro aggravato dalla presenza dei migranti minorenni non accompagnati, come il 50% del personale togati in meno, il 66% in meno dei funzionari amministrativi e gli uffici gravati dalla presenza di nuove pratiche aperte dei migranti stranieri non accompagnati, ed esprime la sua seria preoccupazione riguardo al disegno di riforma della giustizia italiana, che porterà alla soppressione dei tribunali e delle procure minorili, prevedendone la ricollocazione all'interno dei tribunali ordinari. Se ciò accadesse, potrebbe compromettere seriamente questo percorso, che sta portando risultati positivi e concreti. Sì, ho illustrato le criticità che sono quelle dell'avere il 50% del personale togato, dei magistrati togati in meno, del 66% in meno dei funzionari amministrativi, hanno uffici vetusti, ma sono gravati appunto, come diceva lei, dalla presenza di nuove pratiche ogni giorno aperte dei minori stranieri non accompagnati, una mole di lavoro impressionante, ma sta accadendo a Reggio Calabria qualcosa che dovrebbe occupare i primi titoli, dovunque, in tutto il mondo, perché sta accadendo la rivoluzione del metodo di Bella, ossia il famoso provvedimento che strappa i figli all'andrangheta e li allontana. In realtà non è così, è stato comunicato molto male. Sono testimone del fatto che sono stuoli di madri, con il fardello di appartenere a famiglie andranghetiste importantissime della Calabria, non di secondo piano, che portano i figli chiedendo al Tribunale dei minorenni di allontanarli dal contesto mafioso in cui vivono ogni giorno. Vengono allontanati, riprendono a studiare, i primi risultati sono eccellenti perché studiano e poi quando compiono i 18 anni non vogliono saperne di ritornare a casa. Quindi è stato annunciato male quel provvedimento, non li strappa, sono loro che vanno a chiedere per piacere aiutati i miei figli ad allontanarsi da questo contesto. E allora visto che ogni giorno in Calabria si parla di punte di criticità e noi lo dobbiamo fare perché laddove ci sono vanno individuate, ma dobbiamo parlare anche di un laboratorio che è importantissimo, che merita tutto il rispetto e che merita tutta l'attenzione e per questo ringrazio il Presidente Roberto Di Bella per averlo fatto, per averlo messo in atto perché certamente anche uno solo dei provvedimenti adottati nei confronti di uno solo di questi bambini le cui madri chiedono l'allontanamento vale molto di più di 100 marce contro l'Andagrata e di milioni di convegni fatti contro l'Andrangheta. Sì, c'è in corso la riforma della giustizia civile che prevede la soppressione del Tribunale dei minorenni. Se ciò accadesse, chi lo fa si assume la responsabilità politica e morale soprattutto di sfasciare questo percorso che è l'unico percorso che sta portando risultati concreti aggredendo il futuro dell'Andrangheta perché quando tu allontani questi ragazzi che hanno la tentazione dell'Andrangheta dal loro habitat naturale e li porti a confrontarsi con realtà civili diverse, sane, allora lì veramente stai facendo qualcosa contro l'Andrangheta. Sappia il Ministro della Giustizia, lo sappiano i deputati calabresi, lo sappiano coloro che hanno incarichi di governo in Calabria, lo sappiano tutte le istituzioni calabresi che la soppressione del Tribunale dei minorenni darebbe un duro colpo a questo provvedimento e soprattutto annienterebbe quella che è la percezione dell'infanzia perché verrebbero meno le peculiarità specialistiche che il Tribunale dei minorenni ha, verrebbe meno un secolo, due secoli di storia per arrivare a questo risultato ed è una responsabilità che io personalmente non mi assumerei. Appello di Rocco Cassone, sindaco facente le funzioni di Villa San Giovanni, in merito alla responsabilità politica istituzionale dopo la sostituzione dei consiglieri sospesi. Ascoltiamo. Rocco Cassone, sindaco facente funzione di Villa San Giovanni, ha rinnovato nel civico consesso che si è tenuto ieri sera a Palazzo San Rocco l'appello alla responsabilità politica istituzionale e alla condivisione di un percorso che garantisca stabilità amministrativa al Comune. Viviamo un momento particolare perché in base alla legge Severino degli amministratori comunali, tra cui il sindaco Antonio Messina, sono stati coinvolti in questa vicenda amministrativa per cui hanno avuto una sospensione verso la quale hanno fatto ricorso. Nel contempo, per garantire una continuità amministrativa, una continuità anche di progettualità che erano già in cantiere, che stanno per vedere luce nella nostra città, mi è stato chiesto di svolgere questo ruolo. Io, devo dire la verità, ci ho riflettuto un po' perché è sempre un ruolo delicato, anche se prestigioso, importante in un momento storico particolare della nostra città per vari motivi, però credo che è giusto che nei momenti importanti debba preparare il senso di responsabilità e il senso delle istituzioni. Io ho parlato con la mia maggioranza, ho parlato con i consiglieri di minoranza perché secondo me è importante mantenere la serenità amministrativa in questo periodo, fermo restando la distinzione dei ruoli politici che ognuno svolge nella nostra città. C'è piena fiducia ovviamente nelle forze dell'ordine, nella magistratura, che stanno compiendo un'attività incisiva ed efficace sul territorio della provincia di Reggio Calabria e nel nostro comune. Ovviamente do anche i sensi della più profonda vicinanza al sindaco, agli amministratori, agli operatori economici che si sono trovati coinvolti in questa vicenda e mi auguro che possano anche ovviamente risolvere più presto quelle che sono le questioni della vicenda stessa. Ma al contempo bisogna garantire alla città come istituzioni una continuità serena ed efficace dal punto di vista amministrativo. Il Consiglio Comunale, che si è svolto senza la presenza della minoranza, che aveva già annunciato che non avrebbe presenziato ai lavori dell'assise comunale, ha ratificato la nomina Consigliere Comunale di Pino Donato in sostituzione di Cosimo Salzone, anch'esso incappato nella scura della legge Severina e che a sua volta aveva sostituito il dimissionario Francesco Romanzi. Consiglio Comunale che adesse al completo con Ino Giustra, Marco Santoro e Pino Donato subentrate ai sospesi Giovanni Siclari, Lorenzo Micari e Angelina Attinà. L'associazione Cirineo Onlus ha organizzato un convegno per parlare dei benefici della TMA, terapia multisistemica in acqua per bambini e ragazzi diversamente abili. Terapia multisistemica in acqua metodo Caputo e Polito è il trattamento che utilizza l'acqua come attivatore emozionale, sensoriale e motorio. È indirizzato a quei soggetti che presentino disturbi della comunicazione, autismo e disturbi generalizzati che compromettono la vita relazionale. Di questa terapia si è parlato in un convegno informativo che si è svolto nella sala incontri della piscina di Cosenza con la collaborazione del COGES, il consorzio che gestisce la struttura comunale grazie al contributo dei dottori Giovanni Caputo, psicologo psicoterapeuta e ideatore del metodo omonimo e Angelica Tatiana Curti, neuropsichiatra specialista di neuropsichiatria infantile all'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Come suggerisce il termine stesso, la terapia Caputo interviene su diversi sistemi funzionali del bambino, quindi quello relazionale, il cognitivo, il comportamentale, quelli emotivi, senzomotori e motivazionale. Le tecniche natatorie vengono utilizzate come veicolo per raggiungere obiettivi terapeutici e attuare anche il fondamentale processo di socializzazione e integrazione con gli altri bambini. La terapia è il frutto di 20 anni di esperienza con soggetti con autismo ed altre patologie relazionali. Il trattamento è rivolto anche a bambini con ritardo mentale o con disturbi dell'attenzione della condotta e più in generale disturbi motori. Il nostro intervento è quello, comunque all'inizio è un intervento individuale, quindi operatore e bambino, poi successivamente il nostro intervento è per inserire il bambino in un piccolo gruppo. Questo tipo di percorso nasce con bambini che hanno anche un'età precoce. Ovviamente prima la si effettua e è più facile che arrivano risultati anche immediati. Non c'è un limite temporale, anche perché per questo tipo di disturbo ogni bambino ha delle caratteristiche peculiari, quindi per alcuni il tempo può essere breve, anche di un anno rispetto alle capacità e alle competenze acquisite, per altri ovviamente possono attivarsi anche i progetti alternativi e anche esterni alla TMA. Questa è la prima volta che siamo a Cosenza, quindi è la prima volta che inizia questo percorso anche in questa città e devo dire, visto che proprio stamattina abbiamo fatto i primi incontri con i genitori, sono molto entusiasti perché anche voi questi bambini potevano usufruire di questo tipo di percorso. E adesso passiamo alla lettura dei titoli dei principali quotidiani calabresi. Ripetiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, è il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi e vediamo l'apertura che riserve il quotidiano del sud. San Lorenzo del Vallo, un fermo per il massacolo al cemitero, interrogato per dieci ore, Galizia si è contraddetto più volte. È sospettato di aver ucciso le due donne per vendicare la morte del fratello. Emergenza maltempo, strade allagate, crolli e sgomberi il venerdì nero della Calabria, scuole chiuse in molti paesi, situazione allarmante nella Locride, paura per l'allaro a cauloni a gravi danni anche nel Crotonese. Vedete un fiume di acqua e fango ha invaso le strade in molti centri della Locride. Ancora reggio il garante alle mamme, telecamere nelle scuole, vedete il virgolettato dopo l'arresto delle maestre, le famiglie sospettano altri episodi di violenze sui bimbi. Inchiesta spezzata, siamo alla giudiziaria, calcio corrotto, decideranno 13 tribunali per il calcio scommesse. Incontro a Reggio, la visita del ministro Alfano, apre la nuova casa dei moderati. E poi il taglio basso, Rizziconi, precedenza agli affari dei clan e le motivazioni del ministro Alfano che hanno portato allo scioglimento del comune. Rifiuti, strade, cemitero verde pubblico, le attività degli amministratori a senso unico. Chiudiamo con Gazzetta, vedete l'apertura è tutta dedicata al terribile maltempo che ha colpito la Locride e il Crotonese, Locride e Crotonese sott'acqua. Interrotte la statale 106, la linea ferrata, i fiumi minacciano Piamonte e Liguria. Il maltempo non risparmia la Calabria, oggi stato d'allerta, danni in mezzo Italia, quattro dispersi. Vedete in questa foto la ferrovia interrotta, l'erosione all'altezza della pinetina di Bianco. Per quanto riguarda il taglio alto e il titolo sottotestata, San Luca Strangio ricorre alla Corte Europea, condannato all'Ergastolo per la stagia di Duisburg. E ancora Reggio, i maltrattamenti negati dalla maestra, un episodio tra quelli filmati a Reggio Calabria e le due maestre arrestate. Ancora Gioia Tauro, nove firme sulla mozione di sfiducia al sindaco Pedà. Siderno Locri, domani è il giorno delle derby, cresce l'attesa per il derby di domani pomeriggio. E' l'ultima notizia di Gazzetta del Sud. Ci fermiamo qui per quanto riguarda i titoli dei quotidiani calabresi. Situazioni meteo tra pochissimo, poi subito dopo i titoli di coda del nostro Tg. Restituiamo la linea alla nostra redazione. Grazie per averci seguito. Buon weekend a tutti. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuboloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Riepilogo, grazie per essere stati con noi. Il maltempo mette in ginocchio la Locride, scuole chiuse e allagamenti su tutto il territorio. A causa del maltempo, isolati i monaci ortodossi del monastero di Bivongi. Referendum, il ministro Alfano a Reggio Calabria per discutere le ragioni del sì. Uno dei leader nazionali di SEL, Nicola Fratoianni, a Siderno, per il no. In Calabria è sempre emergenza disoccupazione, soprattutto giovanile. Il garante per l'infanzia marziale lancia l'appello, no, alla soppressione dei tribunali dei minori. L'asilo dell'orrore, emergono nuovi particolari. La mamma aveva già chiesto spiegazioni alle insegnanti. La mamma aveva già chiesto spiegazioni alle insegnanti.